Benvenuti a questo incontro dedicato alla gestione del denaro. Sono Giuseppe Santoro, infine ecco mi occupo da diversi anni di formazione. Oggi parliamo di gestione dei risparmi facendo una premessa doverosa. Il rapporto con il denaro per molti di noi è un aspetto un po' controverso. Alcuni pensano che il denaro si debba solamente accumulare, altri pensano di saperlo gestire, ma pochi di noi hanno la consapevolezza che, come per gli altri aspetti importanti della vita, quali ad esempio la salute prima di tutto, è necessario conoscere alcuni concetti base in modo da non commettere errori. Soprattutto oggi che il mondo della finanza e del risparmio sono estremamente evoluti e non di facile comprensione. Di qui la necessità di avere delle basi per poter affrontare la complessità dei mercati finanziari in modo consapevole. Ecco, l'obiettivo di questo intervento è dare alcuni suggerimenti pratici per riflettere su cosa serve il denaro che accumuliamo, come gestirlo in modo adeguato. Allora, ecco, vediamo un pochino adesso nel dettaglio i temi che andremo a trattare. Allora, parleremo di metodo, parleremo quindi dell'approccio che ci aiuta a capire a cosa ci serve il denaro in modo strategico, cioè con una visione di lungo periodo. Gli addetti ai lavori parlano di pianificazione finanziaria, ma in fondo sarebbe più comprensibile parlare di cura, sì, di prendersi cura di sé e dei propri cari attraverso la cura dei propri risparmi, se sono già presenti, e più in generale delle proprie entrate. E, attenzione, paradossalmente, ma è anche facile intuirlo, più le entrate e i risparmi sono limitati, più cura bisogna averne. Analizzeremo quindi i passaggi di questa pianificazione finanziaria che sono l'identificazione delle esigenze reali di ognuno di noi, trasformazione di queste esigenze in obiettivi finanziari, e poi parleremo di orizzonte temporale, che non è unico, ma si riferisce ai singoli obiettivi. Parleremo anche di profilo di rischio, che è una sorta di autovalutazione, per capire come sentirmi a mio agio di fronte ad un investimento più o meno rischioso. Infine, analizzeremo un po' la scelta degli strumenti finanziari che il mercato mette a disposizione. Fondamentale è che questa scelta deve essere coerente rispetto a tutti i passaggi della pianificazione finanziaria. Bene, vediamo un po' in cosa consiste questa pianificazione finanziaria e come l'abbiamo reso dal punto di vista grafico. Ecco, qui è visualizzato il metodo della pianificazione finanziaria in un percorso a tappe che ci aiuta a risparmiare correttamente e ad investire con metodo. Cominciamo il percorso di questa pianificazione e come primo aspetto, naturalmente, c'è l'obiettivo e la ricerca della coerenza tra le esigenze personali da un lato e la struttura del patrimonio per soddisfare queste esigenze. Quindi, la prima tappa che analizzeremo nel dettaglio sono le esigenze reali di ognuno di noi. Cosa sono le esigenze reali? Allora, approfondiamo un po'. Abbiamo detto che la corretta gestione del denaro deve essere fatta con metodo che appunto chiamiamo pianificazione finanziaria. Ecco, l'utilizzo di questo metodo della pianificazione ci aiuta a definire gli obiettivi di vita e cercare di individuare poi gli strumenti per andare a raggiungerli. Se però rimanessimo a questo livello resteremo un po' troppo teorici. Allora, come esempio, vi descrivo un po' i miei obiettivi personali. Beh, il mio primo obiettivo già da tanto tempo è stato quello di colmare il gap previdenziale. Altro obiettivo importante a livello familiare è un'istruzione di qualità per mia figlia. E chi tra di voi ha figli oppure uno zio o nonno mi capirà sicuramente. Ecco, nella nostra famiglia è importante sapere che la nostra figlia potrà frequentare l'università che vorrà in base alle sue aspirazioni oppure che potremmo sostenerla per avviare magari una sua attività professionale e tutto ciò è stato importante averlo già pianificato diversi anni fa. E poi, ma non per importanza, ci può essere tra altri obiettivi anche l'acquisto di una propria prima casa o il suo ampliamento oppure il contributo per quella di un figlio che pian piano vuole emanciparsi. Ecco, è fondamentale fermarsi e ragionare realmente su come ci immaginiamo il nostro futuro, cosa veramente ci manca e cosa vogliamo raggiungere. Approfondiamo ulteriormente questa tematica delle esigenze personali. Se chiedessi ad un trentenne di riflettere sulle sue esigenze di vita mi direbbe sicuramente cose diverse rispetto ad un cinquantenne. Il primo è in piena fase di accumulo con uno spettro di esigenze che va magari dall'auto nuova, alle vacanze, alla possibilità di comprarsi magari una casa per diventare indipendenti. Il cinquantenne invece è in una fase che possiamo definire di conservazione, tale per cui ha come obiettivo solitamente lo studio dei figli piuttosto che magari una casa sempre per i figli, una casa più grande o magari una casa in una località di villeggiatura. Allora, tutto con retto è tutto vero, ma in realtà molto spesso si ragiona con una certa miopia pensando che gli obiettivi di vita siano quelli di cui si ha immediata percezione e cioè è difficile proiettarci in un periodo molto più lontano. Sembra strano dirlo, ma sia per il trentenne che per il cinquantenne uno dei veri obiettivi di vita è quello di mantenere un livello di benessere una volta che magari si saranno andati in pensione. Il consiglio per riuscire ad individuare con più lungibilanza i propri obiettivi è quello magari di guardare gli stili di vita e le necessità delle persone più anziane vicino a noi. Beh, prima di tutto per chi ha la fortuna di averli i propri genitori e quindi ad esempio è fondamentale ritrovarsi un reddito che permetta le cure migliori l'assistenza più adeguata in poche parole poter vivere bene la fase post-lavorativa. Passiamo da un altro aspetto importante di questa analisi delle esigenze. Allora abbiamo detto che ognuno di noi può avere tanti sogni o meglio tante esigenze da soddisfare ma altrettanto è importante fare un ulteriore passo che è quello di dare a questi sogni una priorità. Ecco senza questo criterio c'è il rischio veramente di disperdere le forze economiche anche magari quelle mentali inseguendo qualcosa che poi in realtà a pensarci bene non era al primo posto della lista quindi doppio analisi doppio consiglio vedere chi è intorno a noi e chi è più avanti di noi con l'età con le sue esigenze per capire cosa ci dovremmo aspettare dalla vita più avanti e poi è importantissimo dare delle priorità perché molto spesso i sogni sono tanti e analizzarne le priorità è veramente fondamentale. Bene definite le esigenze reali passiamo ora allo step successivo che noi definiamo gli obiettivi finanziari è fondamentale pensare che le risorse a disposizione servano a soddisfare le proprie esigenze quindi bisogna trattare il patrimonio non come un unicum indistinto ma spezzettarlo e dedicare ogni parte di questo ad un progetto di vita il raggiungimento di questo obiettivo deve essere considerato una storia a sé vediamo come facendo esempi pratici e mettendo dei numeri vicino cosa viene fuori prendiamo il caso di un padre di famiglia tipo beh avrà sicuramente il desiderio di cominciare a costruirsi una pensione integrativa per mantenere il proprio livello di benessere anche quando sarà in pensione e poniamo questo obiettivo per esempio a 300.000 euro poi ad esempio vorrà dare tra un po' di anni un'istruzione di qualità ai figli e quindi poniamo anche qua un obiettivo finanziario di 100.000 euro e poi infine aiutare i figli per l'acquisto almeno parziale di una casa e quindi altri 100.000 euro bene sono tre obiettivi completamente diversi e quindi implicano una pianificazione diversa per raggiungerli poiché ci sarà da verificare il preciso orizzonte temporale dei singoli investimenti il rischio che vogliamo prendere e quindi poi entrano anche in ballo un altro aspetto che sono le emozioni e infine lo strumento finanziario più adeguato bene continuiamo con il nostro percorso e analizziamo ora altri due concetti basilari a cui abbiamo solo accennato un attimo fa cioè orizzonte temporale e profilo di rischio tu aspetti anche quei molto molto importanti partiamo dal primo è importante definire l'orizzonte temporale di un obiettivo in modo da sapere quanto tempo ho a disposizione per raggiungerlo con la consapevolezza che più è ampio o lungo questo orizzonte temporale e più ci permette di guardare al futuro con serenità beh in merito all'importanza di avere un orizzonte temporale a medio lungo periodo potremmo mostrare qualsiasi tipo di grafico di indice azionario e dimostreremo che investire in modo diversificato può consentire di ottenere rendimenti importanti però è più interessante mostrare questa tabella i numeri di questa tabella dimostrano che dopo i cinque peggiori chiamiamoli in modo non molto tecnico tonfi di borsa in realtà il mercato azionario di tutto il mondo rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital Investment All Country World più comunemente conosciuto come MSSI World si è ripreso e dopo cinque anni i rendimenti medianui sono sempre positivi però ci sono situazioni in cui il crollo ha determinato una perdita di oltre il 50% del capitale prima vi ricordate parlavamo di emozioni ecco per capirci ci sarà certamente qualcuno che è entrato sul mercato il giorno prima che è iniziato un crollo e immaginiamo un po' come ci si possa sentire uno dice finalmente decido di investire su uno strumento molto diversificato e ecco il mercato crolla e insieme a lui i miei soldi stanno crollando e addirittura nel giro di poco rischiano di dimezzarsi poi uno pensa se è vero studiato e so che storicamente se tengo duro e resto fedele ai miei obiettivi potrei recuperare e nel medio lungo termine avere anche un accumulo e anche un bel guadagno sì è vero più correttamente in passato è stato vero e se questa volta succedesse qualcosa di diverso potete immaginare come c'è veramente da essere un po' sconvolti da queste situazioni e in tanti per fortuna non impazziscono però escono dal mercato magari nel momento peggiore ora rimanendo sempre nell'ambito delle emozioni giusto per riprendere uno degli esempi personali condivisi prima se il mio investimento è finalizzato alla futura casa di mia figlia di fronte alle forti variazioni di mercato che ci sono state e lo sappiamo anche ultimamente a partire dal febbraio 2020 con la pandemia in cui sono corollati tutti i mercati anche poi qualche periodo dopo con l'inizio della guerra allora se guardo solo il portafoglio rischio di disinvestire di uscire sui minimi e perdermi il recupero che poi in realtà c'è stato a partire anche dal mese successivo a questi tonfi se invece e qui vi chiedo un po' di attenzione vedo mia figlia e la sua bella casetta proiettando nel futuro l'obiettivo è più facile mantenere il sangue freddo e quindi è più facile pensare che è meglio rimanere investiti passiamo ora al secondo concetto il profilo di rischio ossia la misura della quantità di rischio che si dovrebbe assumere nei propri investimenti considerando vari fattori come la situazione finanziaria e la propensione alle perdite poiché la maggior parte di questi fattori è personale il profilo di rischio varia veramente da individuo a individuo pertanto per non avere crisi personali durante appunto una crisi di mercato è fondamentale da un lato fissare il tempo che ho a disposizione per raggiungere il mio obiettivo e dall'altro fare una sorta di autodiagnosi su quanto possa sopportare delle perdite dovute appunto alle crisi di mercato aggiungiamo anche un'altra considerazione un po' per stemperare queste emozioni di fronte a forti oscillazioni i mercati finanziari possono aiutare a raggiungere i nostri obiettivi e come lo fanno si può investire in due modalità la prima è quella classica che si chiama modalità peak cioè in un'unica soluzione io ho la fortuna di avere una quantità di denaro e lo investo tutto su un paniere di titoli e su un mercato di riferimento oppure posso scegliere un'altra modalità che si chiama modalità pack piani di accumulo cioè in modo graduale nel tempo con versamenti ricorrenti ecco poi c'è una terza modalità che invece insomma non è quella che consiglio più di tanto lasciare i propri risparmi su un conto corrente magari non remunerato ecco questo li può esporre alla perdita di potere di acquisto e questo è legato naturalmente alla forza dell'inflazione che ahimè ci stiamo accorgendo dall'anno scorso soprattutto meglio nel 2022 che può essere veramente molto molto pressante negli ultimi anni diciamo fino al 2020 c'è stata una bassa infrazione e quindi non si è avuto tanto la percezione però vi do già un dato un primo dato la perdita è comunque c'è stata circa il 10% del valore del nostro denaro lasciato fermo nell'arco di 10 anni quindi già senza fare investimenti lasciare solamente il denaro fermo in 10 anni con un'inflazione bassissima già c'è stata una perdita del 10% e poi invece c'è stato un altro periodo nel 2021 e soprattutto nel 2022 l'inflazione è aumentata molto tanto è vero che poi il picco più forte è stato nel dicembre 2022 che nell'arco dell'anno è stato quasi del 12% certo quello è un momento un po' particolare tant'è vero che già quest'anno c'è stata una diminuzione e tra l'altro quello era quel tipo di inflazione era legato molto al discorso dei beni energetici alla crisi dei beni energetici che ormai sembra uno spauracchio abbastanza lontano però vorrei farvi riflettere su questo aspetto consideriamo che l'obiettivo delle politiche della banca centrale europea è in ogni caso un'inflazione intorno al 2% annuo quindi proviamo a fare una proiezione su questi aspetti se guardiamo questo grafico ci accorgiamo immediatamente come tenere i soldi fermi sul conto non remunerato non è proprio un grande affare con questi tre scenari il capitale iniziale perderà potere d'acquisto in dieci anni dal meno dieci addirittura almeno 26% beh allora come controaltare c'è che da dire un'altra cosa c'è un vantaggio a tenere i soldi in liquidità ed è la garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi che appunto garantisce i nostri depositi fino a 100.000 euro ma oltre a questi importi supentra la normativa sul risandamento degli enti creditizi e quindi cosa succede i depositi per la parte eccedente 100.000 euro potrebbero essere assoggettati il cosiddetto bail-in nel caso di stato di crisi dell'ente creditizio quindi della banca di ognuno di noi quindi da un lato attenzione all'inflazione è vero dall'altro lato c'è anche questa normativa sulla tutela dei propri risparmi fino a 100.000 euro bene dopo questo escursus su orizzonte temporale profilo di rischio e inflazione torniamo al nostro percorso della pianificazione finanziaria allora per visualizzare e capire meglio i passaggi che stiamo facendo riprendiamo insieme l'esempio del nostro padre di famiglia tipo allora avevamo detto primo obiettivo fondamentale garantirsi una vecchiaia serena in pensione e sappiamo come sarà difficile farlo con la sola pensione pubblica dell'Inps pertanto può essere opportuno preoccuparsi per tempo e da aderire alla cosiddetta previdenza complementare cioè aderire ad un fondo pensione mettendoci per chi può anche il TFR e versando i contributi magari a cadenza mensile oppure trimestrale per diluire nel tempo questo tipo di impegno il fondo pensione avendo un orizzonte temporale lungo ci permetterà di rivalutare il nostro investimento e darci quindi una rendita o un capitale che integrerà poi la pensione dell'Inps quindi vedete nella nostra immagine la prima esigenza quella pensionistica avevamo detto un obiettivo di 300.000 euro che naturalmente non è che si possono accumulare gli ultimi cinque anni di lavoro è giusto partire per tempo anzi ai giovani consiglio ampiamente di partire fin da subito con la pensione integrativa e lo strumento quindi abbiamo visto che il suo strumento ad hoc è appunto il fondo pensione nel frattempo per il secondo obiettivo per poter mandare il figlio all'università quindi si può cominciare magari un piano di accumulo vi ricordate l'abbiamo citato prima il cosiddetto PAC in modo da arrivare preparati finanziariamente al momento dell'iscrizione del figlio all'università banalmente se uno ha figli di anche cinque dieci anni mancano prima di andare all'università magari otto dieci dodici anni è un bel tempo congruo per incominciare a mettere via dei risparmi in modalità PAC in modo tale da dire al proprio figlio guarda diciott'anni abbiamo lo strumento finanziario abbiamo la cosiddetta provvista per una tua scelta qualsiasi scelta consapevole che può essere anche un'università fuori dalla propria città in un'altra nazione più o meno più o meno lunga e infine sempre il nostro padre e famiglia per comprare una parte della casa per il figlio oppure per arragare la propria dedicherà una parte del patrimonio liquido in un investimento adeguato al suo profilo di rischio e con un orizzonte temporale medio magari cinque anni poi arrivato alla scadenza potrebbe aggiungere magari un mutuo che è un altro strumento finanziario per la parte mancante così raggiungere quel suo obiettivo acquistando la casa dei propri sogni vedete con questa slide abbiamo proprio esemplificato come non esiste un unico obiettivo di vita non esiste un unico orizzonte temporale e non esiste un unico strumento bensì esigenze diverse obiettivi finanziari diversi e strumenti finanziari diversi ma vediamo all'ultimo miglio diciamo del nostro percorso di pianificazione finanziaria anche esso però importantissimo e cioè la scelta dello strumento più adeguato premetto che non esistono strumenti buoni o cattivi ma solamente strumenti finanziari adeguati o non adeguati al proprio profilo di rischio vediamo di capire insieme alcuni strumenti che la finanza ci mette a disposizione esistono diversi strumenti per diversificare e a ciascuno corrisponde un determinato livello di rischio tendenzialmente quando compriamo un'azione di un titolo azionario diventiamo soci di quell'azienda quindi chi compra le azioni in caso di fallimento della società emittente può perdere l'intero capitale investito le azioni messe da una banca da un'impresa di investimento o da una società facendo parte anche un gruppo bancario rappresentano tra l'altro i primi strumenti che possono venire assoggettati a quel fenomeno che vi citavo prima del cosiddetto bail-in in caso in cui appunto la società versa in uno stato di dissesto quindi non pensiate che se andate a comprare le azioni della banca magari del credito cooperativo del vostro paese o di qualche banca che vi sembra particolarmente solida anche in quei casi si rischia di poter perdere il proprio investimento quando compriamo invece un'obbligazione oppure un titolo di stato di fatto ci limitiamo a prestare dei soldi siamo creditori quindi non siamo come dire proprietari come nel caso dell'acquisto di azioni ma in questo caso delle obbligazioni o dei titoli di stato siamo dei creditori di quell'azienda o di quello stato anche in questo caso le obbligazioni sono soggette al rischio di insolvenza dell'emittente e possono essere assoggettate anch'esse al bail-in nel caso in cui siano emessi da soggetti sopra menzionati e non siano garantite i soggetti sopra menzionati sono le banche il bail-in trova però applicazione prima per i titoli azionari e poi per quelli obbligazionari giusto per capirci fallisce la banca la piccolo credito cooperativo o è uno stato di esistesto prima si andranno a recuperare le azioni dei vari correntisti e poi si andrà a recuperare eventualmente le obbligazioni terzo passaggio ve lo dico anche fin da subito si potrà andare a recuperare la liquidità però attenzione fino a 100.000 euro sono garantiti come avevamo spiegato prima i titoli di stato in più sono obbligazioni messe da uno stato sovrano e possono presentare i rischi appunto già visti per le obbligazioni cioè il rischio di insolvenza ahimè nelle orecchie probabilmente tutti abbiamo il caso dell'Argentina di inizio 2000 la crisi che c'è stata con le obbligazioni greche insomma anche gli stati possono andare in difficoltà e oltre agli stati ricordiamo anche come dire le varie crisi che ci sono state anche qui prima con le azioni per esempio le parmalat oppure per le obbligazioni della Lehman Brothers oppure come dicevo prima i vari stati Argentina Grecia insomma bisogna stare molto molto attenti e proprio per questo è importante un concetto in finanza che è proprio la base la diversificazione quindi più si diversifica cioè più acquisto un numero di titoli maggiori per tipologie per emittente per settore geografico per settore a livello settoriale più abbassiamo il rischio parliamo un pochino di azione adesso allora le azioni sono le singole parti unitari in cui è diviso il capitale delle società appunto per azioni il titolare di un'azione quindi possiede un pezzetto della società con tutti i diritti e anche gli onel le azioni possono essere quotate quindi abbiamo tutti gli indici dei mercati di cui tra l'altro abbiamo contezza anche nei telegiornali oppure ci possono essere aziende che non sono quotate nel primo caso va da sé che è più facile acquistarle o vendere ad un prezzo di mercato mentre le azioni non quotate possono presentare grossi problemi al momento della vendita quindi facile comprarle più difficile venderle in modo profittevole allora il rischio principale di azione l'abbiamo un po' raccontato prima è il default dell'immittente e conseguente insolvenza dello stesso e inoltre ripeto ancora non pensiate che le azioni emesse da una banca siano lontane da queste preoccupazioni perché abbiamo detto che esiste la normativa sul belino le obbligazioni entriamo un pochino più nel dettaglio in inglese vengono le potete anche sentire denominate sotto il termine bond sono titoli di debito attraverso il quale gli stati oppure le imprese si finanziano conosceremo conosciamo tutti le obbligazioni italiane che sono BOT o quelle a più anni che vengono definite BTP chi acquista le obbligazioni è come se prestasse dei soldi allo Stato oppure all'impresa che le ha emesse queste ovviamente in cambio cosa offrono? offrono un interesse e quindi ogni obbligazione oltre ad avere l'interesse ha anche una scadenza due cinque dieci anni più è lontana la scadenza attenzione maggiori saranno i rischi ma anche gli interessi offerti naturalmente dall'emittente dopodiché arrivata a scadenza l'obbligazione viene rimborsata quindi l'impresa restituisce a chi aveva acquistato l'obbligazione l'intero importo durante il ciclo di vita di questa diciamo questo prestito l'obbligazione distribuisce la cosiddetta cedola periodica per un valore pari all'interesse annuale fissato quindi in soldoni se voi comprate un BTP a cinque anni sicuramente avrà una cedola minore rispetto a un BTP a dieci anni più si allunga il periodo dell'obbligazione più tendenzialmente l'emittente dovrà dare un interesse maggiore questo perché allungando il periodo si allunga anche il rischio arrivati ai cinque dieci anni lo Stato restituisce l'intero importo che gli è stato prestato però durante questi cinque dieci anni ogni anno c'è la cosiddetta cedola che ci permette di avere in conto corrente un interesse dell'importo che è una percentuale dell'importo che abbiamo prestato quali sono i rischi delle obbligazioni anche qui il default dell'immittente poi è possibile anche incorrere in perdita a seguito dell'attività di compravendita dell'obbligazione qualora l'acquisto avvenga ad un prezzo maggiore di quello di rivendita o di rimborso perché vi dico questo perché anche l'obbligazione è soggetta a un valore di mercato e io potrei anche comprare un BTP a dieci anni ma non tenerlo per dieci anni dopo quattro anni ho necessità di riavere i soldi vado sul mercato obbligazionario e tento di rivenderlo ci può essere la situazione in cui mi è andata bene per cui il valore di quell'obbligazione è aumentato quindi ci guadagno anche una plusvalenza ma possono esserci situazioni in cui invece la sto vendendo a un prezzo inferiore rispetto all'acquisto e quindi avrò una minusvalenza sempre per quanto riguarda le obbligazioni bisogna stare attenti e quindi va considerato anche il rischio liquidità dello strumento ovvero il sul mercato in caso di vendita il rischio cambio legato alla valuta dell'obbligazione perché noi parliamo di obbligazioni BTP italiane però io posso comprare anche obbligazioni della Turchia del Venezuela di altre nazioni che quotano la propria obbligazione con la valuta della nazione quindi oltre a prendermi un rischio in solvenza del paese devo stare attento a prendermi anche un rischio di valuta e mentre se prendo le obbligazioni in euro naturalmente questo rischio viene meno e poi c'è il rischio importantissimo legato dall'andamento dei tassi ma solo qualora appunto si intenda a portare non portare a scadenza la propria obbligazione inoltre le obbligazioni bancarie appunto e non garantite sono soggette al rischio del bail-in e ovvero il potere di c'è un ulteriore rischio il potere di svalutazione con possibilità di azzeramento del valore nominale ultimo rischio è anche quello di conversione alcuni possono addirittura trasformare il prestito in capitale quindi in azione quindi ci si trova soci di una di un'azienda quando magari si voleva solamente prestargli del denaro bene quindi abbiamo visto i singoli titoli azioni e obbligazioni ora pensiamo passiamo un altro a un altro concetto importante che fatemi dire esalta il il concetto di diversificazione esistono degli strumenti che hanno proprio nel proprio dna la diversificazione e quindi nella slide vedete l'abbiamo anche rappresentati come dei portafogli allora sono in ordine per conoscenza i fondi i fondi comuni di investimento altro strumento molto simile ai fondi sono le SICAV e infine tratteremo anche un ulteriore strumento che sono gli ETF l'acronimo etf sta per exchange traded funds quindi sono sempre dei fondi con una peculiarità sono scambiati su un mercato regolamentato in trattazione continua come se fossero delle azioni allora cosa sono sono un particolare tipo di fondo comune questi etf naturalmente sto parlando caratterizzati da una peculiarità la gestione passiva ciò significa che il fondo questo insieme di titoli si limita a replicare fedelmente un indice sia questo sia azionario obbligazionario o monetario per intenderci quando parlo di fondi SICAV in realtà sono degli strumenti che sono in mano un cosiddetto gestore cioè un team di gestione molto spesso che decide in base alla tipologia di strumenti di fondo SICAV quali titoli inserire in questo paniere invece l'etf che non ha un gestore quindi si chiama gestione passiva replica banalmente un indice un esempio molto pratico un etf sul Fuzimib è un paniere che replica esattamente tutti i titoli che attualmente sono nell'indice italiano appunto del mercato della borsa di Milano vantaggi vantaggi direi principalmente due degli etf la diversificazione perché sono tanti i titoli all'interno e più c'è l'accessibilità quindi si possono investire importi anche piccoli mille euro o anche cento euro e con un solo strumento compriamo migliaia di azioni obbligazioni e titoli di Stato per completezza nella slide abbiamo inserito anche i fondi di fondi lo vedete in quest'ultimo portafoglio che fanno un ulteriore passaggio verso l'ulteriore diversificazione perché perché il singolo fondo invece di comprare singoli azioni obbligazioni vanno a comprare a loro volta ulteriori fondi passate mi un po' la licenza matematica è quasi come se dicessimo una diversificazione al quadrato entriamo un pochino più nel dettaglio di questi strumenti iniziamo coi fondi allora i fondi comuni di investimento sono strumenti appunto di investimento gestiti da una SGR che vuol dire società di gestione del risparmio che riuniscono le somme di più risparmiatori e decidono un po' di investirle con un unico patrimonio e rivestero in attività finanziaria quindi azioni obbligazioni titoli di Stato eccetera rispettando delle regole volte naturalmente a ridurre i rischi sono suddivisi in tante parti unitarie dette quote che vengono appunto sottoscritte dai risparmiatori la gestione è affidata a un team di esperti che è il famoso gestore di cui vi parlavo prima accanto alla forma tradizionale del fondo comune la stessa attività di investimento può essere svolta addirittura da una società e questa si chiama società di investimento a capitale variabile e la cui il cui acronimo appunto è SICAV e infine ve li ho accennati anche prima ci sono gli ETF e sono un particolare tipo di fondo comune caratterizzato da una gestione passiva ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice sia che questo sia azionario obbligazionario oppure monetario i rischi vediamo poi i rischi principali sono per lo più legati all'andamento dei mercati e quindi dei titoli sottostanti prima di passare al fondo pensione volevo dirvi sugli rischi vedete nel momento in cui io vado a investire su un fondo una SICAV un ETF all'interno del quale magari c'è qualche titolo Parmat qualche titolo Lehman Brothers qualche titolo obbligazionario Argentina o Grecia nel momento in cui falliscono queste società o questi paesi il loro fallimento è minimale rispetto al controvalore di tutti i titoli che ho potuto comprare e su cui sono andato a investire ecco come è importante utilizzare questi strumenti proprio per abbassare il profilo di rischio dell'investimento quindi ricordiamoci sempre diversificazione uguale abbassamento del rischio da ultimo li abbiamo anche citati prima in qualche esempio fatto poc'anzi vediamo cosa sono nel dettaglio e quali rischi comportano i fondi pensione fondi pensione anche qui è un organismo di investimento collettivo del risparmio che raccoglie i contributi per la maggior parte dei lavoratori oppure dei datori di lavoro che versano la loro quota e anche qua le investono in strumenti finanziari allo scopo poi di erogare a fine del periodo quando poi il soggetto andrà in pensione pubblica potrà chiedere al proprio fondo una prestazione pensionistica parallela quindi una rendita vitalizia che si affianca alla rendita dell'Inps e questo avverrà naturalmente alla fine dell'attività lavorativa e continuerà naturalmente per tutta la vita del lavoratore rischio rischio legato anche qui all'andamento dei mercati quindi un rischio tendenzialmente basso e degli strumenti appunto in cui investe bene abbiamo fatto un bel escursus su quello che è la pianificazione finanziaria l'abbiamo definita cos'è la pianificazione è il metodo che ci permette di gestire e quindi non solo di accumulare il proprio denaro quindi pianificazione è un metodo abbiamo visto che ci sono vari passaggi in questo metodo il primo passaggio è fermarsi e individuare le vere nostre esigenze ok quindi individuarle e con un occhio particolare un occhio non miope un occhio lungimirante che riesce a vedere da lontano secondo passaggio è trasformare queste singole esigenze in obiettivi finanziari quindi metterci vicino un numero la pensione la scuola dei figli la casa quanto mi costerà tra 5 10 15 anni e quindi appunto aiutarci a renderlo tangibile in modo tale che sia più semplice poi individuare la soluzione migliore per poterlo raggiungere poi abbiamo parlato di altri due concetti molto importanti l'orizzonte temporale e il profilo di rischio quindi sono i due elementi che permettono poi di scegliere correttamente lo strumento migliore per raggiungere i miei obiettivi e infine abbiamo parlato di azioni obbligazioni fondi fondi di fondi fondi pensione che sono alcune delle soluzioni che possono essere utili e che possiamo utilizzare sempre però ricordandovi quel principio fondamentale che è la diversificazione bene abbiamo concluso questo escursus io vi ringrazio per l'attenzione e se non l'avete ancora fatto date magari uno sguardo alle altre iniziative di formazione che proponiamo alla prossima grazie di tutto grazie dell'attenzione